Buongiorno! Oggi è 6 agosto e inizia un'altra giornata. Stamattina però non sono sola in macchina, ci siamo tutti perché stiamo andando dove? Am I going on my way! Vero amore? Sì, è vero! Stiamo andando al mare insieme ai nonni. Ci aspetta un'oretta di macchina, quindi siamo partiti abbastanza presto perché noi siamo mattinieri, ci piace il mare di mattina e niente, andiamo, vediamo un po' che giornata ci aspetta. Comunque vi porteremo con noi, eh! Finalmente siamo rieti al mare e guardate quanto è bello! Oggi è veramente bello, l'acqua come sempre qui è politissima, e vi faccio vedere com'è trasparente. Vedete? È veramente trasparente, è bello! Noi stiamo qui, non posso quadrar più di tanto perché c'è un sacco di gente, però al panorama vi posso far vedere. Allora, c'è fatta la di merenda, che stiamo tutti facendo merenda, e io sto mangiando la barrettina che ho comprato all'Eurospin. Buona! E tutti vi prendono in giro perché loro pane salame, pane cioccolata, pane brisava. Io a merendina dell'Eurospin. Buona! al cocco e frutta secca. Questa è la situazione. Qua c'è Vittoria Maria, qua c'è Valerio. Abbiamo già fatto un sacco di bagni, l'acqua è bellissima. E ci stiamo divertendo. Allora, qui c'è Vittoria che porta a Prisco e andiamo a bagnarci i piedini, vero Vitto? Andiamo, vieni! Lì nel frattempo ci sono i bimbi che giocano col nonno. Loro stanno sempre in acqua. Il bello del malatriatico è che c'è un bel pezzo che l'acqua è bassa, quindi i bambini stanno in sicurezza e stanno tranquilli. Andiamo a Prisco! Guardate Prisco che ha paura dell'acqua. Aspetta! Vieni qui tu scappi! Prisco ha paura dell'acqua. Vieni, mamma ti prende in braccio, vieni. Ecco Prisco il fifone che non vuole mai entrare in acqua. Io non ho in acqua. Vieni Vittoria, vieni! Praticamente lo portiamo a mare ma non vuole entrare. Vabbè! Fifone! Questo è uno dei pochi momenti che mi vedrete sdraiata. Ecco, già è finito praticamente. Perché con loro, praticamente, il lettino serve solo d'appoggio per le borse. E niente, ci riposiamo un po' noi femminucce, vero? Sì! I maschietti stanno dentro l'acqua a giocare. Viola no perché c'ha un pochino di freddo. Infatti oggi non fa tantissimo caldo. Si sta bene. Il mio amore sta qui. Ciao amore! Ciao amore! Nonna sta laggiù. Ciao nonna! Ciao amore! E niente, il nostro sabato al mare continua. Ma che fa? Allora adesso io e mio marito andiamo a portare pesca a fare passeggiatina pipì e peccone. Purtroppo ha paura dell'acqua e non ci vuole entrare. Quindi camminiamo sul bagnasciuga, lui più lontano possibile dal mare. Però alla fine si diverte. Adesso ve lo faccio vedere. Eccolo qui! C'è un prinsione? No. Eccolo il principe di casa! Principi! Perché ha chiede? Noi guardiamo quelli che sono più bianchi di noi. Eccolo! Sprizzino, patatine varie, patatine varie. Vista mare. Et voilà! Vabbè! Ci godiamo questo sprizzino. Assaggiamo un po' com'è? Cinci? Hai commenti negativi? Mi sa che tocca dargli una girata, amore? Sì. Vabbè! 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 Siamo arrivati all'ora di pranzo già siamo tutti distrutti praticamente. Io sembra una pazza. Io sembra una pazza. E qui c'è Vittoria Maria, ci sono gli altri bambini che si stanno riposando, hanno mangiato. Noi no, perché abbiamo fatto maledì, siamo ancora pieni, mentre i bambini hanno mangiato e non so voi, ma noi il mare dopo un po' ci stupa. Siamo più tipi da montagna che da mare, però vabbè, l'estate ci vuole l'estate. Siamo tornando a casa, sono le due del pomeriggio e fa 34 gradi, però al sole erano 42, amore? Sì, ci siamo stancati perché è da stamattina alle 8 e mezza, 9 per un quarto che stiamo in spiaggia e i bambini cominciano ad essere irrequieti. Poi fa veramente tanto caldo, quindi abbiamo pensato di tornare a casa, ma adesso ci aspetta la parte più difficile, o cioè fare le doci a tutti, a tutti e quattro, più noi ovviamente. Vabbè, abbiamo un'oretta di viaggio, quindi ci riposiamo un pochino, speriamo che loro dormano anche perché sono un po' nervosetti. E niente, ci aggiorniamo. Non sei nervosetto, Valè? No. E' vero, tu sei brava, amore. Quella più nervosetta è Vittoria Maria, eccola lì. Lei è la diavoletta di casa. Vabbè, ci aggiorniamo più tardi. Allora, si è fatta sera, non ho più registrato niente perché siamo tornati dal mare, stanchissimi. Abbiamo fatto le docce a tutti i bambini, quindi asciugate i capelli, eccetera. Abbiamo sistemato le borse, abbiamo passato l'aspirapolvere che c'era praticamente sabbia ovunque. Poi siamo collassati sul divano e niente. Poi ci siamo mangiati una pizza e adesso ce ne andiamo a dormire perché siamo veramente esausti. Quindi penso che questa giornata finisce qui. Ci ritroviamo domani che è l'ultimo giorno di questo weekly vlog che è durato un'eternità. Sembra più un'epopea che il racconto della settimana. Spero però insomma che vi stia piacendo. Ok, buonanotte a tutti, a domani. Buongiorno e buona domenica. Qui, baciata dal sole, noi siamo usciti che stiamo andando a messa perché per noi non è messa se... No, no, per noi non è domenica se non c'è la messa, se non si va a messa. Mio marito ride perché ho sbagliato ma non fa niente. Questo è bello della diretta. Adesso andiamo e poi dopo vi faremo vedere cosa facciamo. Comunque oggi giornata relax, non troppe cose perché ieri al mare ci siamo stancati abbastanza. Allora, eccoci qua con lo sfondo del parco perché tanto ormai la domenica facciamo messa più parco. Quindi una cosa per noi, una cosa per i bimbi. E qui va se sta veramente bene perché ci sono tantissimi alberi. Palla in arrivo! Ci sono tantissimi alberi e ventilato. A parte che oggi ne fa tanto caldo, dai. No. E niente, la nostra domenica la passiamo così. Tranquillità. E tra un po' adesso giocano un pochino, siamo appena arrivati. Poi dopo si va a casa e si prepara il pranzo. E poi chi vivrà vedrà. Andate a giocare a pallone? Sì, andiamo a giocare a pallone. Ecco mio figlio. I maschi ormai vengono qui solo per andare a giocare a pallone. Mi piace troppo, veramente troppo. Invece le femminucce stanno sull'altalena. E niente, che dirvi ragazze e ragazzi. Questo weekly vlog è quasi giunto al termine. Mi manca. Mi piace però tenervi aggiornato di quello che faccio. Comunque la mia vita, l'avete visto, è molto semplice. Non è che faccio grandi cose. Mi divido tra casa, bambini. E poi a fine settimana si esce, si fanno molte più cose. E niente. Che c'è? Aspettate. Vi faccio vedere un po' intorno. Eccoci qua. Là c'è Vittoria Maria che gioca sui giochi, sullo scivolo. Qui c'è Viola. E giù in fondo, lì, dentro al campetto da calcio, ci sono i maschietti che giocano a pallone. È un bel parchetto. Io sto seduta come al solito. A me mi trovate sempre seduta al parco. Perché quando c'è il papà me ne approfitto. E mi riposo. Che bello. Vedete come dicevo prima quanti alberi. È proprio pieno di alberi. Quindi c'è tanta ombra e tanto fresco. Via! Dopo ti aiuto, mamma. Brava! Vai! E oggi per pranzo, i tacos. Un pranzo Tex-Mex. Buonissimi. Veramente buoni. Buon appetito! Sì, avete visto bene. Sono collassata sul divano dopo pranzo. E praticamente ho dormito, penso, due ore. E non mi capitava da neanche meno. Ho mangiato troppo. Oggi abbiamo fatto i tacos, se lo avete visto prima. E ho mangiato troppo. Non si è abituata. Io che sto sempre a dieta. Tutti questi grassi tutti insieme. Quindi niente. Ci siamo appoggiati sul divano. Abbiamo iniziato una puntata della serie che vi stiamo vedendo. Io ho visto solo il panoramico. Io ho visto solo il panoramico. Ho riaperto gli occhi. Erano le tre e mezza. Erano passate due ore. Mi dico a me. Vabbè. È andata così oggi. Comunque sono solo le tre e mezza. Adesso provo con coraggio ad alzarmi dal divano. Anche perché fuori il tempo non è dei migliori. È un po' bruttino. Però vabbè. Proviamo ad alzarci. Con queste coccoline al mio cane. Concludo questo lunghissimo video weekly vlog. Che è durato un'eternità. Abbiamo fatto tre puntate. Vi diamo a tutti la buonanotte. In questo modo così rilassante. Vero amore? Sei rilassato? Sì. È un messaggio bello da dare a tutti. Amate e coccolate i vostri amici pelosetti. Che l'amore che loro danno non ve lo darà a nessuno. Senza chiedere soprattutto niente in cambio. Vero amori? Di un po'? Buonanotte! E grazie per aver visto il nostro video. Faccio! Grazie a tutti.